E' stato presentato il primo bilancio di genere della provincia di Gorizia. Gli assessori Vito e Morsolin hanno illustrato i dati relativi alle azioni che la provincia ha realizzato a favore delle donne e delle fasce deboli della popolazione. Uno strumento di rendicontazione sociale come questo risulta utile per analizzare i bisogni della popolazione, per valutare i progetti intrapresi al fine di migliorare i servizi offerti, con lo scopo ultimo di realizzare una piena parità tra i generi nel campo del lavoro, del sociale e dell'istruzione.